Il comune di Pizzoli dice no al centro di accoglienza per migranti e richiedenti asilo negli spazi inizialmente pensati per realizzare un campus universitario mai completato e in attesa di una destinazione definitiva. È una posizione netta quella del sindaco del comune, situato a pochi chilometri dall'Aquila, Gianni Anastasio, che con l'amministrazione sta individuando un percorso per destinare la struttura dove solo due palazzine sono state realizzate. Nell'immediato post-sisma, attraverso una catena di solidarietà e l'impegno di un imprenditore che nel sisma del 2009 perse la figlia universitaria, iniziarono i lavori per la costruzione del campus. Un progetto da 5 milioni di euro che prevedeva la costruzione di diverse palazzine per 139 piccoli appartamenti per un totale di 262 posti letto da destinare a studenti universitari. Nell'ottobre del 2010 un'inchiesta della procura dell'Aquila bloccò i lavori e anche i 32 studenti che avevano preso possesso dagli alloggi furono costretti a cercare una nuova sistemazione. Il processo che ne seguì, che coinvolse amministratori e tecnici, imputati per una serie di reati legati a presunti abusi ambientali, edilizi e violazioni delle norme tecniche, si è concluso a maggio del 2010 con 10 assoluzioni con formula piena. Da quel momento si è tornati a pensare di cosa farne della struttura. I presupposti che portarono all'idea del campus, nato nel post terremoto, con un'emergenza abitativa per gli studenti universitari da tamponare, sembra quasi tramontata. Qualcuno ha lanciato l'ipotesi di un centro per migranti, ma l'idea non sembra essere piaciuta per nulla al sindaco dei Pizzoli, dove già sono presenti diversi cittadini stranieri, giunti proprio con progetti per l'accoglienza. Potrebbe anche succedere che magari l'intenzione sia quella di utilizzarla per questi profughi, che comunque hanno bisogno di spazi e di ospitalità. Per quanto ci riguarda, io ho già detto in altre situazioni, lo ribadisco, Pizzoli è saturo perché noi abbiamo già qui più di una situazione che comunque si è venuta a creare negli ultimi mesi e che unita a tutti gli stranieri che Pizzoli già ospitava, ormai superiamo abbondantemente il 10% della popolazione, quindi non siamo più in grado di poter tenere sotto controllo anche per una questione di ordine pubblico queste cose.